vediamo subito questo che poi ci permette anche di vedere l'esempio con l'attrito questo c'ha un po di tutto quindi e questo è un classico cioè non faccio una stima basata sulla mia esperienza quindi valida relativamente ma metà degli esami di fisica o delle verifiche la live finisce alle 5 e mezza metà degli esercizi o delle verifiche sull'energia hanno un esercizio del genere la molla in orizzontale con il blocco che le viene lanciato contro questo è proprio un classicone oggi vediamo proprio i classici classici dell'energia ok avete una molla in orizzontale la roba tratteggiata in bianco qua sono il muro e il pavimento ok quindi avete il muro e il pavimento c'è una molla appiccicata lì contro il muro e gli avete gli state lanciando contro un blocco questo blocco sta andando alla velocità di 10 metri al secondo e ha una massa di 4 chili la costante elastica della molla quella che si chiama k di solito è di 200 newton su metri vi viene chiesto di quanto si comprime la molla a causa del blocco allora anche qua la parte impegnativa di questi esercizi è interpretare il testo quindi cerchiamo di capire che cosa ci sta dicendo immaginiamoci il blocco è stato lanciato in orizzontale contro quella molla che cosa succederà succederà che il blocco arriva sparato colpisce la molla e la schiaccia quindi alla fine voi avete una situazione di questo tipo con il blocco che sta schiacciando la molla e la molla che si è accorciata inevitabilmente quindi quella che è disegnata sopra se volete è la situazione iniziale quella che ho disegnato sotto la situazione finale che cosa possiamo dire nella situazione iniziale la molla non è compressa cioè non è né allungata né schiacciata mentre nella situazione finale la molla è compressa e il blocco all'inizio il blocco si sta spostando alla fine e qua c'è la chiave il blocco alla fine è fermo occhio questa è l'informazione infame che loro nel testo non vi danno cioè nessuno vi dice esplicitamente guarda che quando il blocco colpisce la molla poi si ferma ci dovete arrivare da soli questa se volete la parte più complicata cioè riuscire a capire e immaginarsi l'evoluzione della situazione nella propria testa se avete capito questo piccolo passaggio siete a posto da qua in poi è tutto in discesa perché a livello di formule non c'è niente da fare delta k più delta u uguale al lavoro non conservativo è sempre la stessa formula come si usa? sempre nello stesso modo delta k la variazione di energia cinetica è k finale meno k iniziale cioè un mezzo m vf quadro meno un mezzo m v quadro questa parte è sempre uguale in tutti gli esercizi non cambia mai si usano sempre queste formule qui arriva la parte dove invece dovete fare un po' di ragionamento dovete prendere una decisione che formula uso per la u perché non ce n'è soltanto una prima ho fatto lo schema generale andatevelo a rivedere se volete quale u devo prendere allora non c'è nessuno spostamento verticale cioè nessun oggetto qua va in alto e in basso ma c'è una molla quindi uso la formula della u della molla quindi u finale meno iniziale in questo caso ripeto diventano un mezzo kx finale al quadrato meno un mezzo kx iniziale al quadrato voilà occhio una cosa ragazzi k è la costante elastica della molla in questo caso lo so che in questa formula c'è un'altra k che è questa qua sopra quella dell'energia cinetica tecnicamente la k dell'energia cinetica è maiuscola e la k della molla è minuscola per distinguere però a volte si fa un po di pastrocchio mi spiace in fisica a volte succedono ste robe lavoro non conservativo per sapere quanto vale lavoro non conservativo vi dovete chiedere che forze ci sono in gioco quali forze agiscono sugli oggetti che io ho nel problema dunque c'è il blocco che si muove il blocco sicuramente riceve la forza peso quella c'è sempre e sicuramente ha la reazione vincolare perché appoggiato su un piano in più non nella situazione iniziale ma nella situazione finale ci sarà anche la forza elastica della molla no quindi che cosa succede l'unica forza che non conta tra le quattro conservative è la n come sempre quindi l'unica forza non conservativa qua è la reazione vincolare lavoro della forza vincolare ma come abbiamo visto anche nell'esercizio 1 questa roba è sempre zero cioè il lavoro della forza vincolare è sempre zero e l'attrito non mi ha detto nulla il professore magari voleva anche scrivervi nel testo che l'attrito è da trascurare ma si è dimenticato voi però siete arrivati scafati all'esame e sapete benissimo che anche se non va detto nulla quella roba lì è comunque da trascurare perché non c'è mezza informazione nel testo che mi faccia pensare che ci sia l'attrito e chi me l'ha detto che c'è ho dei dati? no e quindi non lo uso quindi il lavoro non conservativo in questo caso è zero e tanti saluti come diventa la formula? quindi questa qua che ho scritto diventa un mezzo mvf quadro meno un mezzo mvi quadro più un mezzo k x finale al quadrato meno un mezzo k x iniziale al quadrato uguale a zero questa è la formula con cui siete arrivati ora inseriamo i valori numerici la massa questa volta ce l'ho 4 kg velocità finale e uno dice eh ma non me l'ha data eh occhio nella situazione finale in realtà abbiamo visto dal disegno che vi ho fatto qua sotto che sappiamo che cosa succede al blocco il blocco alla fine è bello e fermo è contro la molla la molla l'ha fermato quindi velocità finale vale zero non ve l'ha detto lui ci dovete arrivare da soli ragazzi in fisica un sacco di dati sono sottointesi cioè il testo non ve lo dice esplicitamente ci dovete arrivare da soli massa 4 velocità iniziale 10 k della molla 200 questa ce la veniva fornita x finale chi è x finale è la compressione della molla che è proprio l'incognita quindi questa è quella che devo trovare incognita k è di nuovo 200 x iniziale questa qua è la compressione la deformazione della molla all'inizio quanto vale all'inizio la molla non è minimamente compressa lei se ne sta lì per i fatti suoi quindi questo robo vale comunque zero di nuovo guardate che magia ho inserito i dati nella formula senza ripeto fare chissà quali ragionamenti mistici e di nuovo mi è comparsa da sola un'equazione dove l'incognita è proprio la roba che sto cercando non ho dovuto fare cose strane ripeto vedete che ho scritto la formula ho messo dentro le sue robe e caso vuole che ho ottenuto proprio un'equazione che mi risolve l'esercizio questa è la figata dell'energia cioè sono tutti così gli esercizi la formula quindi diventa con i dati inseriti un mezzo per 4 per 0 meno un mezzo per 4 per 10 al quadrato più un mezzo per 200 per x finale che non so alla seconda meno un mezzo per 200 per 0 uguale a 0 qua figata stratosferica questo è 0 questo è 0 quindi due pezzi se ne sono bellamente andati rimanete soltanto con quelle due robine lì quindi adesso facciamo così questo qua lo spostiamo a destra così ce lo togliamo dalle scatole sono tutti numeri quindi è inutile tenerlo a sinistra e quindi rimanete con un mezzo per 200 x finale al quadrato uguale a un mezzo per 4 per 10 alla seconda ok adesso qua ultimi passaggi ci isoliamo la x finale quindi magari qua facciamoci due calcoli in croce un mezzo per 200 100 per x finale al quadrato dall'altra parte invece dovrebbe venire 200 se non sbaglio 100 per 4 ho fatto 2 sì quindi x finale al quadrato è 200 diviso 100 quindi è 2 e quindi x è la radice di 2 fine l'esercizio si è risolto da solo vedete che la parte di ragionamento ovvero proprio c'è la parte dove effettivamente serve aver studiato fisica e all'inizio dopo che avete scritto la formula è solo calcolo matematico non dovete più pensarci non dovete più